ecco state vedendo le mie scarpe l'unica cosa di nuovo che c'è in questo paese dopodiché ecco il paese ecco la bella visuale del paese questa è la cattedrale sì 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 la cattedrale sì enorme a santo dio dove sono andato a finire madonna mia che sfida ecco questa è la visuale del paese proprio del malissimissimo oh sto facendo un filmato saluto a mare un giudizio su questo cazzo di posto allora ragazzi quando vedrete questo video vi accorgerete che tra sette giorni siete morti non c'è più niente di così scandaloso che venire qui guardate il reto della chiesa di santo dio facciamo un'autoripresa per filmare questo momento è gratante ti dico solo questo che la chiesa che dovrebbe essere un centro di comunità era e raccolta questa zona è decontaminata off-limits secondo me c'è la chiesa delle radiozioni ma delle bombe non so se conviene abbiamo deciso anziché comprare una casa compriamo tutto il paese tutto il paese e poi ci portiamo la roba da sotto con questo è tutto e chiudiamo il filmato vi voglio bene ragazzi salutatemi mamma e papà bella raga ciao a tutti grazie